Dal Vangelo secondo Matteo In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli Se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va e ammoniscilo fra te e lui solo. Se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello. Se non ti ascolterà, prendi ancora con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità. E se non ascolterà neanche la comunità, sia per te come il pagano e il pubblicano. In verità io vi dico, tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo. E tutto quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. In verità io vi dico ancora, se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà. Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro. Parola del Signore. Alleluia, 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 alleluia. Ecco, volevo anche dire un saluto ai ragazzi di Prima Media che oggi hanno vissuto un ritiro in preparazione della Cresima e Prima Comunione in ottobre e adesso partecipano anche alla Messa. Quindi grazie. Ci sono anche dei genitori. Ecco, siamo uniti proprio per arrivare a questo grande momento di dono da parte di Dio. Ecco, il Vangelo oggi ci parla della cosiddetta correzione fraterna. è una cosa molto difficile che, ecco, ci viene suggerita in quali situazioni? Quando, dice Gesù, un tuo fratello commette una colpa contro di te. quindi una situazione di quotidianità, perché succede, no? Che arriva qualcosa che ti ferisce e che il fratello commette un errore, uno sbaglio, una colpa contro di me E allora, cosa, come bisogna comportarsi? Ecco, Gesù ci mette una scaletta dei passaggi che richiedono anche tanta, come dire, distacco dal mio io che vorrebbe a volte quando viene ferito E allora, subito reagisce, esplode e cerca di sistemare le cose così, di getto, di colpo, di istinto, no? Facendo danni proprio alla grande. Ecco, proviamo ad ascoltare i passaggi che Gesù ci insegna perché sono proprio di una grande sapienza e anche dicono che nel nostro cuore c'è amore verso la persona che ci ha ferito, perché comunque noi desideriamo lo dice fra le righe, guadagnare il fratello, non perderlo non star bene senza di lui noi desideriamo guadagnare il fratello cioè che sia veramente all'interno della nostra famiglia che è la comunità questo è ciò che deve muovere il cuore in questa ricerca con vari passaggi allora il primo passaggio va e ammoniscilo fra te e lui solo cioè parla con lui va, vuol dire prendi iniziativa, esci non aspettare che le cose capitino da sole va, interessati abbia cuore di questa cosa che rischia di deteriorarsi ecco questo passaggio io con la persona è molto importante tante volte si salta questo passaggio perché si passa subito a parlare male della persona con altri magari gli amici che mi capiscono che mi danno ragione passo subito a parlare male magari in buona fede è perché mi confesso dico il mio stato d'animo di sofferenza e intanto parlo di una persona che non c'è questa è una devastazione dovremmo metterci come principio che se stiamo male perché qualcuno ci ha fatto soffrire non parliamo male di lui non raccontiamo la cosa ad altri ma parliamo a tu per tu con lui questo è il passaggio primordiale se veramente amiamo questa persona come fratello della comunità e ci teniamo che ne faccia parte il primo passaggio è diciamo il silenzio perché non posso sfogarmi appena vedo uno che mi può capire e parlarne con lui direttamente con la persona interessata vorrei dire che se mettiamo in pratica già solo questo primo punto sapete come cambiano le cose in un paese in una comunità basterebbe fermarsi qui il secondo passaggio se non ascolterà prendi ancora con te una o due persone perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni ecco a volte ci può essere qualche persona che magari fa da mediazione fra me e lui perché ci ci fatichiamo a comprenderci no magari una persona che sta in mezzo può fare da ponte da mediatore quindi anche questo passaggio è da tentare se poi non ascolterà costoro dillo alla comunità quindi la grande famiglia della comunità è un passaggio penso che non so se sia mai stato fatto un passaggio del genere sono cose grandi è che ci dice qua Gesù però c'è anche questa questa cosa no e poi dice se non ascolterà neppure la comunità sia per te come il pagano e il pubblicano ecco qua sembra che Gesù abbia detto ok si arrangi no non dice questo perché Gesù se vi ricordate in qualche altro passo del Vangelo dice che lui è venuto per i peccatori non per i sani per i malati non per i giusti no quindi alla fine no vuol dire che io devo instaurare una modalità totalmente diversa come Gesù come Gesù si comporta nei confronti di una persona che ancora deve incontrare la tenerezza di Dio capite? cioè si cambia registro completamente ma è ancora più impegnativo e poi ancora una cosa è un Vangelo troppo denso non riesco a ecco dire tante cose e tutto soprattutto però alla fine dice l'ultima ancora se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa il Padre mio che è nei cieli gliela concederà ecco allora se vuoi veramente bene e vuoi guadagnare quel fratello prega insieme con qualcuno e chiedete insieme al Padre quella cosa lì abbiamo usato tutte le possibilità che c'erano no? uno, due, tre, quattro non siamo arrivati a niente chiedi aiuto a Dio con la preghiera ecco questa è una cosa potentissima potentissima la preghiera riuscirà a cambiare un cuore Dio ha il potere anche di cambiare il cuore noi non ce l'abbiamo ma vorrei dire una cosa che se una persona anche abbia avesse tagliato completamente i ponti con la comunità se però dentro la comunità ci fossero due o tre persone una o due persone anzi due o tre almeno due che nel cuore la desiderano che nel cuore chiedono aiuto a Dio per riaverla questa preghiera è già un ponte che unisce quella persona alla comunità ne fa parte anche se tutto sembra dire non ne fa parte quella preghiera è testimonianza di fronte al cuore di Dio che noi sentiamo come fratello quella persona è questo che conta non i muri i recinti i gruppi è il cuore che unisce che cerca che si interessa che desidera ecco chiediamo questo lo scopo sia sempre guadagnare il fratello non tagliarlo fuori pensare di star bene senza